non ho parole non ho parole perché ho detto già tutto prima è inutile che io mi stia a ripetere adesso vi spiego come si è arrivati a questo allora non ce l'ho né con Mancini anzi Mancini va solo ringraziato per quello che ha fatto fino adesso ha ridato dignità a una nazionale morta ha ridato Mancini va solo ringraziato per quello che sta facendo e che ha fatto però dobbiamo dircela tutta dobbiamo dircela tutta continuiamo a pagare un andazzo che va dopo il mondiale sudafricano che continuiamo a pagare questo andazzo allora io vi faccio la cronistoria degli eventi allora cosa contesto io non tanto a Mancini ma tutti gli ultimi ct che si sono avvicendati forse è l'esclusione di Conte cosa contesto a Mancini io io a Mancini e a tutti i mister che sono seguiti contesto l'andardietro a scuole di pensiero che non sono le nostre per carità io non sono un catenacciaro io non sono per me l'Italia più bella per me era e resta quella di Azzeglio Vicini perché giocava come sappiamo giocare ma avevamo grandi giocatori all'epoca giocava come sappiamo giocare in Italia ma potevamo permetterci il bel gioco perché avevamo grandi giocatori avevamo Vialli Roberto Mancini Giannini Baggio Tonadoni Maldini Baresi Ferri Bergomi Zeng e Tacconi in Porta De Napoli Giannini per farvi nomi per me quella è stata la nazionale più bella in assoluto la nazionale di Azzeglio Vicini quella che ricordo io quando perché contesto questa moda di fare per forza il bel gioco di Stafava amici miei l'ho detto nell'altro video senza Gullit Van Basten Donadoni Rai Cardevani Maldini Baresi fa cagare anche Sacchi fa cagare anche Sacchi i Sacchiani stiano un po' zitti che ci hanno scassato abbondantemente la minchia ci hanno scassato allora che succede dopo il fallimento al mondiale sudafricano che c'era una squadra che andava per la mano maggiore che era il Barcellona il Barcellona di Guardiola ok allora noi pensiamo bene di fare il tiki-taka bel gioco possesso a palla tra l'altro tra l'altro nell'anno si decide questo nell'anno in cui l'Inter di José Mourinho con il classico Pullman davanti alla porta in 10 contro 11 contro quel Barcellona li butta fuori in semifinale di Champions e alza la Coppa noi in quell'anno da chi prendiamo esempio dall'Inter di Mourinho che ha una filosofia di gioco più simile a quella loro ma no of course noi copiamo Guardiola e ti vedi in tv i sacchi i pistocchi estasiati nel vedere Guardiola il guardiolismo amico mio amico mio fuori da Barcellona a livello europeo a fa cagare anche Guardiola fa cagare anche Guardiola lo capiamo o no senza certi giocatori l'Olanda gioca così da 50 anni gioca nello stesso modo da 50 anni ma un conto avere in squadra Cruyff Neskens Rep Rensenberg Hahn i gemelli Van de Kerkhoff Van Ane Game e tanti e quelli Kroll e quelli splendidi giocatori un conto è avere i Depay cioè dopo quella generazione l'Olanda ha mancato tre grandi tornei pur giocando in quello stesso modo cosa voglio dire con questo signori ogni squadra ha il suo DNA ogni movimento calcistico ha il suo DNA noi abbiamo un DNA la nostra forza è stata sempre non il catenaccio non è bugia il catenaccio noi non abbiamo mai vinto col catenaccio che ne dicano altri l'Inter di Herrera vinceva col catenaccio non la nazionale di Pozzo o di Berzotto o di Valcareggia l'europeo assolutamente no la nostra forza è sempre stata quella di adattarsi all'avversario questa è la nostra forza lo è sempre stata lo è sempre stata allora dopo il 2010 che succede in Italia vogliamo fare tutti i barcellonisti di sto cazzo vogliamo fare ok comincia Prandelli tac 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 bel gioco di Prandelli di ricordo i giornalisti di ricordo i giornalisti poi andiamo ad analizzare i risultati di quella nazionale che in fin dei conti ti ha fatto giocato alla grande due sole partite due sole partite è entusiasmato il quarto di finale con l'Inghilterra che potevamo vincere ben prima dei calci di rigore forse anche la partita dei gironi con la Spagna e la semifinale con la Germania basta per il resto nel girono di qualificazione quello europeo l'unica avversaria tosta l'hai battuta a tavolino che era la Serbia l'hai battuta a tavolino per il discorso di Ivan Bogdanov se ricordate ma per il resto avevamo l'Irlanda del Nord pareggiamo 0-0 anche allora lì l'Irlanda del Nord l'Estonia avevamo non ricordo chi altro è facile arrivare al torneo così sulla scia di quel sulla scia di quel ah un'altra partita buona che abbiamo fatto per me è con la Spagna alla Confederation Cup in Brasile dove perdemo i calci di rigore ma giocamo una gran partita con la Spagna le grandi partite della Nazionale di Prandelli votate al possesso palo al bel giuoco di sto cazzo si condano sulle dita di una mano Spagna nel giro di qualificazione dell'europeo del 2012 Inghilterra Germania Spagna in Confederation Cup poi noi che facciamo noi pensiamo perché noi siamo furbi noi noi pensiamo di fare il tiki-taka contro gli spagnoli cosa succede in finale che ce ne danno quattro nonostante noi vincevano nei 90 minuti e loro si qualificano nei rigori contro il Portogallo noi andiamo là belli sicuri tronfi e ce ne fanno quattro senza mai farci avvicinare alla porta e questo è già il primo poi andiamo ai mondiali in Brasile dove pur non brillando vinciamo un girone molto più difficile di questo avevamo Repubblica C che è Danimarca nel girone 2014 era un girone molto più difficile di questo ci qualifichiamo andiamo ai mondiali dove siamo non proprio dalle favoritissime ma godiamo di buon di buon credito dopo quell'europeo perso in finale e dopo la Confederation Cup dove arriviamo terzi battiamo l'Inghilterra ale bel gioco ci esaltiamo ma perché funziona perché l'Inghilterra non ti aspetta l'Inghilterra la gioca la partita l'Inghilterra non ti aspetta la gioca la partita l'Inghilterra e poi che succede dove c'è da tirare fuori le palle con le due sudamericane diciamo in casa loro fai cagare zero gol le partite di stasera uguale zero gol fra Uruguay e Costa Rica a casa con ignomini anche Prandelli diciamo che Conte Conte è quello che più si avvicina alla nostra mentalità come CT ma Conte aveva una squadra che faceva ridere eppure se Zaza e Pelle non fanno i coglioni tu mi elimini la Germania campione del mondo ai quarti di finale giocando come sappiamo giocare l'Inter come ha vinto lo scudetto con Conte aspettando l'avversario e aveva quei due avanti che erano più a Kimi che erano micidiali nelle ripartenze l'Inter di Conte tanto decantato dallo stesso Sacchi non fa altro che il contropiede non faceva altro che il contropiede ha vinto e se non si suicidano in finale vincono anche l'Europa League giocando così vabbè io veramente e poi arriva il non plusult avventura io avventura l'unica colpa che ho avventura sapete qual è quella di aver avuto la pretesa di andare a giocare 4-2-4 in Spagna dove prendemmo legnate e che quelli si fermarono altrimenti era manita se non di più con gli spagnoli e poi c'è Italia-Svezia signori signori la Svezia la Svezia era molto più forte di quest'Irlanda del Nord è molto più forte di quest'Irlanda del Nord quella Svezia lì oggi abbiamo fatto la stessa partita di Milano con la Svezia uguale tac 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 un tiro in porta da lontano in 90 minuti stavano segnando loro le più grosse occasioni le hanno avute loro in una partita dove si sono solo difesi lo volete capire che questo non è il calcio che fa per noi lo volete capire che la Svizzera andava aspettata perché a noi lo 0 a 0 faceva comodo anche lo 0 a 0 faceva comodo e invece no e invece no e invece no dobbiamo fare i sacchisti del cazzo io ribadisco io a Mancini sarò sempre grato perché se non altro ha ridato dignità alla nazionale Mancini io penso che lui sarà imbufalito negli spogliatoi e non solo con i presenti anche con gli assenti troppi troppi assenti in questo doppio impegno ricominciamo con la malapianta di prima cosa è dopo l'europeo ci siamo montati la testa immobile bastoni chiellini zaniolo cosa è ci siamo montati la testa ci siamo dopo l'europeo eh no signori non va bene per niente e per questo io ai ct non tanto do colpa quando do colpa perché purtroppo sono condizionati da una stampa bastarda dagli opinionisti di merda che si mettono in testa di fare il gran gioco ma quale gran gioco se togliamo il Barca di Guardiola il Milan di Sacchi e là il grande Ajax chi ha vinto il Real Madrid il Real Madrid ha vinto 13 coppe dei campioni senza mai fare il tiki-taka di che cazzo stiamo parlando a parte il fatto che cos'è il tiki-taka cos'è il tiki-taka eh il tiki-taka lo faceva anche il Brasile del 70 il tiki-taka solo che non ti veniva a pressare alto non faceva queste costruzioni dal basso e sta grande fava rigogliosa tra l'altro questi non hanno manco inventato niente ma perché avevano gente talmente forte io se c'è una squadra che avvicinabile a quel Barcellona che tanto ha bacato le menti nostre in Italia è il Brasile del 70 ma il Brasile del 70 non giocava a zona non giocava a zona il Brasile del 70 il falso Nueve l'ha inventato il Brasile del 70 Tostavo non stava lì fermo a fare la punta statica si muoveva e lasciava gli spazi per inserire i medi ora di Pelé ora di Gersin ora di Rivelino e tanti altri quindi questi non copiate non hanno inventato un cazzo questi qua non hanno inventato signori la partita di oggi veramente è stata una pena arrivavano al limite dell'aria tac 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 avevano paura persino a crossare ma come entri di forza come entri di forza con questi stalloni a stangoni alti due metri con chiesa berardi in segni e pensi di sfondare la linea di forza ripetisco la colpa non la do a mancini perché da una ventina d'anni anzi si è progressiva anzi no da una trentina d'anni in Italia si è progressivamente eliminata la figura del centroavanti l'unico è stato Vieri è Luca Toni Luca Toni attenzione ma perché in panchina c'era Lippi in nazionale che di calcio ne capisce che di calcio ne capisce che è più assimilabile a vicini come commissario tecnico perché in panchina c'era Lippi altrimenti Toni se lo scordava il mondiale se lo scordava è vero che c'erano Vieri c'erano Inzaghi c'erano anche altri ma quando cito Toni cito quel tipo di attaccante noi avevamo prima c'era Serena che tira il capocannoniere in Italia c'era Aldo Serena c'era Vialli c'era Virdis c'era Pruzzo in Italia è stata abolita la figura del centroavanti in Italia escluso Balotelli ditemi un nome di un centroavanti decente che abbiamo in Italia devi andare in Serie B devi andare in Serie B devi andare ma di cosa stiamo parlando primo seconda cosa è stato abolito il dribbling io veramente metterei al muro tutti i responsabili delle scuole calcio mille dieci cento mille minofavini dell'Atalanta dieci cento mille Sergio Vatta buonanima del Torino i veri maestri di calcio non questi questi falliti e pigoli di Sacchi lo dice bene del Piero in un video con Vieri lo dice bene del Piero e importa quando tiriamo importa quando tiriamo il dribbling è stato abolito in Italia il dribbling è stato abolito e non vi dico del tiro dalla distanza non vi dico il tiro dalla distanza non vi dico noi che abbiamo avuto gente come come Tardelli come Benetti come Dino Baggio che nella storia della nazionale ci hanno deciso un sacco di partite De Rossi De Rossi è stato l'ultimo che calciava la fuoriaria in Italia De Rossi Pirlo il tiro da fuori sembra che sia diventata la peste sembra che sia diventata la peste oh porca puttana noi Juventini abbiamo perso le coppe dei campioni con i tiri da fuori Casemiro Magat e che più ne ha più ne metta in Italia sembra che sia stato abolito il tiro da fuori allora da fuori non dobbiamo tirare dribblare non dobbiamo dribblare centra avanti manco per il cazzo come li facciamo i gol ci puoi mettere anche Dio in panchina come li fai i gol e non ve ne uscite abbiamo vinto l'europeo l'europeo l'hai vinto l'hai vinto perché uno è in stato di grazia per no perché quando c'è il grande torneo infortuni muscolari spariscono e questa è una polemica vecchia polemica che faccio io con quelli che hanno marcato visita a questo giro a me i club hanno rotto il cazzo a me i club hanno rotto il cazzo perché dopo è facile gettare la cruce sul ventulla di turno è facile gettare la cruce sul mancini o sul prandelli di turno prandelli per il quale io non stravedo sia chiaro questo è quanto questo è quanto signori questo è quanto vi ho raccontato come siamo arrivati a questo perché noi diamo retta agli opinionisti e non chissà di calcio gente che non ha mai in via di estinzione in Italia e questo qua ha fatto un miracolo bravura sua ma ha trovato una squadra perché noi io lo dissi un'altra volta noi l'Italia nella fase finale l'Italia nelle qualificazioni sono due entità distinte e separate diamo il meglio nelle fasi finali noi lì nessuno marca visita lì nessuno marca visita basta che c'è da incontrare la Lituania l'Irlanda del nord e il risentimento muscolare e la contrattura e l'affaticamento avete rotto il cazzo io fossi mancini questa gente ok nessuna altra non sei integro non vieni più in nazionale a questo punto faccio così chi è lì grazie ma basta Zaniolo non sei integro stai a casa Bastoni una presenza in nazionale Calabria addirittura questi già fanno le star no c'ho il Napoli domenica cazzo mi frega dalla nazionale una volta due volte la terza volta non sei integro in nazionale non vieni perché mi avete rotto il cazzo sì è vero non stiamo parlando di Beckenbauer nel caso di Bastoni di Calabria o non stiamo parlando di Gerd Müller nel caso di Immobile ma porca miseria l'avevamo Italia-Svezza ci aveva dato una sonora lezione da questo punto di vista stiamo ricascando nell'errore i club hanno rotto il cazzo i club e gli opinionisti hanno rotto il cazzo fatevi i cazzi vostri non è per noi il tiki-taka non è per noi punto e non ci torno più iscrivetevi al canale